Quando nel paese, nel centro storico, logicamente la gente con la fretta che uno ha, poi adesso siamo d'estate, è il tempo buono, però quando verrà l'inverno, che piove, cioè noi non ci abbiamo un... Ma a me queste sferme dico niente, non mi riesce a capire il motivo perché ce l'hanno messo, forse perché hanno paura che la gente parcheggi qua, dare un nuovo significato a questa... Queste qui sono brutte, quelle che c'era prima era parecchio meglio, ti andavi un esercizio da passeggio, da shopping, il nostro è un lavoro pesante, la gente qui ci viene con le macchine, noi abbiamo diversi clienti di Castello, Anghiari... ...d'inverno, è freddo... ...sonano proprio con la città in sé... Se non può venire, reggere i pesi, non può fare 500 metri con il peso, tutto quanto... ...e poi i parcheggi non ci sono, sono tutti pieni perché logicamente le macchine che non entravano prima... Per me vanno bene... Scusi, ha ragione signorina, scusi, non sto parlando con un amico mio... Scusi, non faccio... Forco... Sì, pronto? 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 Pronto... Scusi, Castratani? Sì, lei chiede, scusi... Sono, sono il Berghi di San Cipolcro... Ah, benissimo... Ah, vuole sapere quel discorso che... Di... Che mi ha detto... Che... Che... Monologo... Monologo... Non fare così... Che... Che magari ha fatto il Berghi... No, guardi, il discorso è estremamente semplice. Per chi? Con calma, adesso... Scusi, dottore, lei è in grado... Un attimo di rabbia, non mi so più controllare la mia voce. Ma mi fa parlare o no? Sì, sì, sì. Lei fa dei monologhi. Sì. È impossibile starle dietro, scusi, eh. Lei deve farmi parlare. Sì, ha ragione, ha ragione, scusi. Perché che entravano prima, adesso non entrano più quelli di quelle banche, e dove vanno? Ai parcheggi. Prima dovevano magari... Soprattutto per il fatto che d'inverno ghiaccia, secondo me. Non male. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.